L'ufficio scolastico regionale ha reso noti i dati del personale scolastico che alla data del 9 agosto si è sottoposto alla vaccinazione anti-covid. I soggetti che hanno già ricevuto almeno la prima dose sono 34.481, ovvero più del 95% del target previsto, composto da oltre 36.000 unità tra docenti e personale ATA. 31.615 invece il numero di immunizzazioni completate con doppia dose registrate sempre al 9 agosto dal servizio sanità della regione. Dati che indicano come quasi l'88% del personale scolastico marchigiano abbia terminato il percorso di vaccinazione. Per quanto riguarda gli studenti invece, dai dati registrati una settimana più tardi, l'ufficio scolastico ha comunicato che per la fascia dai 12 ai 15 anni hanno ricevuto la prima dose quasi il 40% delle ragazze e dei ragazzi, mentre più del 16% ha concluso la profilassi. Nella fascia che va dai 16 ai 19 anni invece il 46,5% ha terminato la vaccinazione, mentre più del 66% degli alunni più grandi è in attesa di ricevere la seconda dose. Rispetto al numero totale degli studenti marchigiani, ovvero più di 110.000 ragazze e ragazzi, quasi il 47% di questi non ha ancora aderito alla vaccinazione anti-covid. Sul fronte dei nuovi contagi invece, il servizio sanità della regione ha comunicato che rispetto ai 2883 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, sono 205 i nuovi casi di covid-19 segnalati sul territorio regionale. Di questi, 36 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre ai numeri dei tamponi analizzati e dei casi positivi riscontrati, salgono anche quelli dei ricoveri negli ospedali marchigiani. L'ospedale pesarese ha visto un incremento di 5 unità, per un totale di 20 pazienti attualmente ricoverati. 10 nei reparti ordinari, 5 in quelli semi-intensivi e 5 in terapia intensiva. Il bollettino quotidiano emesso dal servizio sanità della regione, come accade ormai da diverse giornate, non ha notificato nuovi decessi legati al covid.